Silenzio assoluto, nulla filtra tranne qualche indiscrezione che sembrerebbe propendere per un sensibile raffreddamento della pista che porta, o forse a questo punto portava, a Pasquale Foggia come direttore sportivo. Al momento tutto tace, da Via Gioberti si continuano ad attendere novità, che a questo punto sembrano essere destinate ad essere rimandate per lo meno di qualche giorno. Da Modugno, Nicola Canonico evidentemente vuole prima comprendere qual è la reale intenzione dell'accordata di imprenditori locali che dovrebbero, proprio in queste ore, far pervenire una nuova proposta, verosimilmente di acquisto, del club. Non ci saranno altri incontri dopo quello di venerdì scorso nel quartier generale dell'attuale socio di riferimento della società rossonera, ma a parte questo c'è ora da approntare la nuova stagione e il tempo che scorre obbliga ora ad accelerare. Chi invece è in movimento è Vincenzo Millico. Il gioiello del Foggia, fermo d'aprile scorso dopo il grave infortunio rimediato nella sfida contro la Casertana, ha per ora messo da parte le vacanze. È in città dove sotto le cure di Domenico Ferrazzano, addetto al recupero infortuni del Foggia nelle ultime due stagioni, sta lavorando sodo per riprendersi il suo ruolo di protagonista. Millico è uno dei punti fermi del Foggia che prenderà corpo col passare delle settimane e non è da escludere che possa indossare la fascia di capitano nella nuova stagione. Un attestato di stima e un pieno di responsabilità per chi, prima di infortunarsi, con gol e assist, aveva trascinato i rossoneri dalle zone melmose dei play-out a quelle stuzzicanti dei play-off perduti, proprio nelle battute finali di un campionato zavorrato dagli infortuni, di Millico ma anche di altri protagonisti.